Bene, diciamo che è di apprezzare in maniera significativa, solidarle con la Fondazione Cassa di Risparmio delle Sande, il Dottor Maconi e il Presidente Luciano Mariano che hanno dato inizio a un qualche cosa di straordinario, sensibilizzando non solo i cittadini ma tutti noi, anche gli amministratori, perché questa raccolta fondi possa avere i migliori risultati. Noi stiamo assistendo con estrema attenzione e rispetto il lavoro straordinario dei medici, degli infermieri e tutti coloro che nella sanità quotidianamente spendono il loro tempo e vanno oltre il loro tempo. Sono momenti difficili, le iniziative del genere vanno supportate nella maniera migliore e quindi chiedo personalmente, come cittadino e come amministratore a tutti coloro che mi conoscono, un impegno per sostenere, dare voce e andare a fare l'inversamento, perché l'ospedale di Alessania, così come tutte le strutture ospedaliere, ha bisogno in questo momento di attrezzature particolari che, data l'antiperturare del coronavirus, potrebbero venire a mancare. Ritengo un impegno di solidarietà che abbiamo dimostrato in altre occasioni difficili. Non faremo mancare esattamente al nostro ospedale, l'ospedale civile e tantomeno ancora più l'ospedale infantile che necessita dei famosi caschi e che quindi, come ripeto, cittadino mi sento onorato poter appartenere a quel gruppo, spero numerosissimo, di persone che capiscano il momento e si attivino in maniera significativa e determinante, perché questa straordinaria raccolta e questo impegno, oltre all'impegno, ripeto, dei medici, va da buon fine.